Buongiorno a tutti, buon 2019. Un saluto particolare alla mia amministrazione, ai miei cittadini, ma soprattutto ai tanti turisti che stamattina alliedano la nostra Sant'Agnello. Che dirvi, speriamo che questo 2019 sia, soprattutto un 2019 ricco di tanti valori, di amicizia, di amore, di pace, di serenità, ma soprattutto di salute. E per noi di Sant'Agnello sarà il 2019 importante, in cui realizzeremo una serie di opere fondamentali per lo sviluppo e la crescita del nostro territorio. Partiranno i lavori della nuova scuola media, gli immobili di via Diaz, della scogliera per la proto turista. Quindi una serie di storie che miglioreranno ancora la condizione sociale della nostra Sant'Agnello, che è già così belle e ridente. Io spero solo che il 2019 veramente sia un anno importante per tutti noi e che tutti noi, in questo momento in cui brindiamo, festeggiamo, volgiamo un pensiero anche a chi sta a letto, chi è malato, chi sta in ospedale, chi lavora, chi ha perso il lavoro, chi sta all'estero, chi non può festeggiare insieme ai suoi cari questo momento di gioia. Pensiamo anche a chi, mentre festeggiamo, pensiamo a un saluto e dare un saluto a chi sta in una condizione sfavorevole. Quindi io spero che il 2019 noi possiamo tutti quanti regalare una carezza a una persona anziana e un sorriso a un bambino. Grazie. Grazie, Sindaco. Allora siamo pronti per cantare la canzone di Capodanno, solo una piccola introduzione, è napoletano, è semplicissima, ha tre parole di introduzione. A chi sta bene, sta bene, poi nient'altro che ripetere l'ultima parte della strofa, va bene, è semplicissima, poi seguite me e quindi siamo a posto. Buongiorno e buon principio d'anno, anche a tutti questi signori in compagnia, sta bene, siamo venuti e torneremo ogni anno per farvi il lavoro a casa bimba. Spelatevi le ricche, apriteci il cuore, la casa, la dispensa, la cantina, che chiedono su giornate di contento, si mangono, si bevono e non si pensano niente. Spelatevi le ricche, va bene, va bene, maestro. Spelatevi le ricche, va bene, maestro. Spelatevi le ricche, va bene, 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 Grazie a tutti. 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 Sant'Agnello, auguri di inizio anno per Mediaset Communication di Lino e Michele De Angeli. Grazie a tutti. 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 Un brindisi augurale.